La cerimonia si è svolta nel prato della Darsena Borghese alla presenza del comandante della Capitaneria di Porto di Pesaro, Capitano di Fregata Nicola Gaudino, del Sindaco Luca Serfilippi, di altre autorità civili e militari e soprattutto dell'equipaggio che lavora per la tutela della sicurezza in mare davanti alla costa fanese. La nuova comandante, Maria Giovanna Trombetta, si è presentata con grande entusiasmo e spirito collaborativo. Oggi assumo l'incarico di comandante del Porto e capo del circondario marittimo di Fano. Per me è un onore e sono orgogliosa di scoprire questa realtà che mi ha fatto una bellissima impressione, una città accogliente che mi ha catturato dal primo minuto. I primi incarichi sono sempre emozionanti per chi intraprende una carriera ricca di responsabilità come la sua. Cosa prova in questo momento? Non nascondo l'emozione, come ho detto durante il discorso. Ovviamente il mio ruolo sarà quello di continuare nel solco tracciato dalla collega. Il lavoro svolto dal comandante Battista è stato fondamentale, quindi io mi impegnerò con il mio equipaggio per continuare con quanto già portato avanti dalla collega. Comandante, lei è la quarta donna che si avvicenda al comando del circomare di Fano. Questo significa che la passione del mare è donna? Il mare è un bene che interessa a tutti senza distinzione di sesso, di cultura. Il mare è un bene che deve essere tutelato e portato avanti per le future generazioni. Quindi lei ha avuto questa passione fin da piccola? Fin da piccina, assolutamente sì. Due importanti obiettivi per cui ha elaborato la comandante Battista è stata la sicurezza della navigazione e soprattutto anche la sicurezza dei bagnanti. Ecco, proseguirà questo lavoro? Assolutamente sì. La sicurezza dei bagnanti e più in generale della navigazione è uno dei temi a cuore del Corpo delle Capitanerie di Porto che persegue gli obiettivi istituzionali senza mai dimenticarsi la tutela delle risorse ittiche e dell'ambiente marino. Un commiato denso di commozione anche da parte del tenente di Vascello, Stefania Battista, che è stata trasferita alla direzione marittima di Reggio Calabria. Sì, molto emozionata perché oggi lascio il mio incarico di comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano, un incarico davvero importante, molto impegnativo, che mi ha visto impegnata appunto qui per due anni, dove ho cercato di fare il meglio, di dare il meglio per la comunità fanese e la marineria fanese, il tutto sempre accompagnata e supportata da un fortissimo e preparatissimo equipaggio. Andrà in Reggio Calabria la direzione marittima di quel capoluogo, quindi l'esperienza acquisita a Fano le servirà per il nuovo incarico? L'esperienza acquisita a Fano mi servirà non soltanto per il nuovo incarico, ma per tutto il proseguo di carriera. È, come ho detto prima, un incarico molto importante, un incarico che permette non solo di poter affrontare diverse tematiche, diverse problematiche che rientrano nei nostri compiti di istituto come Capitanire di Porto, Guardia Costiera, ma soprattutto mi ha permesso di avere il confronto diretto e la gestione del personale e dell'equipaggio, che è uno degli obiettivi più belli per un capo del circondario e comandante del Porto.